Eh, bravo, tira sempre da quella, bravo! Ok, buono! Appena sbaglia eh, Davy, appena sbaglia! Bene, bene! Davy, fai un po' venire! Lavora un po' sulla limetta! Fai un po' venire! Fagli credere una cosa! Fagli credere! Ok! Bravo! Bravo, bravo! Va bene, va benissimo! Va bene! Ok! Guarda, bravo! È quello, è quello eh! Gira la tua sinistra! Gira, gira! Bene! Gira veloce tu a sinistra! Ok! Olè, va bene, va bene! Ok! Bene! Bravo, bravo, bravo! Venti lì dentro eh! Scendo! Alla tua sinistra! Eh! Buono! Come si punta eh? Come si punta? Buono! Ok! Olè! Vai bravo! Finisci con il calcio! Finisci sempre con il calcio! Ok, aspettalo, aspettalo! Buona! No! Eh, ha detto la rimetta su quel calcio eh! Ok! Guarda la rimetta su quello! No! Fanno attaccare, fanno attaccare i finiti! Fanno venire, fanno venire! No! Vai, vai, vai! Accorcia poco a poco! Tieni lì! Bravo! Tieni lì! Bravissimo! Tieni lì! Tieni lì! Leggermente in pressing! Bravo! Va bene! Leggermente in pressing! Fagli quello l'ora! Ci sono passato! Tutto che non ho finito! Ok! 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 che le toccato, eh? Aspetta, Gato! Finisce di con un caccio da vicino, eh? Da vicino... Ok. Dai, dai, temi, 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 temi! Distanza, distanza! Ok, bravo, bravo! Vedi che costringi a fare lavorare? Costringi a fare qualcosa! Porta! Ok, bravo! Sì, va bene, va bene! Ho c'ho la libertà! Bravo! Va bene, va bene! Ora! Ora! Ora, bravi! Ora, ora! Buona ritenzione! Davi, buosissima! Ora! Oggi, se io c'ho fatto il gruppo di corno di corno di corno, se io ti chiedi una lega con la destra in quanto ho fatto il pallino di corno di corno di corno, di corno di corno di corno di corno di corno di corno. C'erano anche gli altri colpi, eh? C'era tutto. Fuori l'allenamento, ok? Ok, bene, bravo, più tonico ora, più tonico, mega, perfetto, più tonico, eh? Ok, bravo, bravissimo! Bravo! Ok, ok, verticale, verticale, bravissimo! alimiti alimiti ma bene Buon appetito! Ok, bravo! Vai, vai, vai! Vai, vai!